Si sta parlando da qualche giorno di una proposta di legge che dovrebbe vietare l'uso dei telefoni cellulari in classe. La norma potrebbe essere inserita nel disegno di legge che rende obbligatoria un'ora settimanale di educazione civica in discussione proprio in queste settimane nella Commissione Cultura della Camera. L'idea è che i ragazzi dovrebbero depositare in presidenza il loro cellulare al momento dell'ingresso a scuola ma è del tutto evidente che una misura di questo tipo sarebbe del tutto impraticabile. La regola dovrebbe valere anche per i docenti che però fanno osservare che molto spesso soprattutto nella scuola superiore lo smartphone serve anche a compilare il registro elettronico. I più attenti poi sostengono che più che vietare agli alunni l'uso del telefonino bisognerebbe insegnare loro ad usarlo in modo corretto. Il divieto peraltro sembra perfino in contrasto con le finalità del piano nazionale della scuola digitale che prevede esplicitamente proprio l'uso di dispositivi immobili personali come tablet e smartphone a scopo didattico. La proposta insomma sta incontrando ostacoli già sul nascere e difficilmente potrà arrivare in porto. Vedremo nei prossimi giorni in che modo si svilupperà il dibattito alla Camera. Mercoledì 30 gennaio è prevista una nuova seduta durante la quale il provvedimento verrà ancora discusso. Su questo argomento che è molto dibattuto in questi giorni anche nei social vi invitiamo a scriverci, a mandarci la vostra opinione e a commentare e ovviamente vi invitiamo anche a continuare a seguirci perché sicuramente ci occuperemo ancora dell'argomento.